Il Villa Mattoni, matricola tenace e molto organizzata, mette paura al Montorio, una delle formazioni più ambiziose del campionato. L'anticipo del primo turno del torneo di promozione finisce 2-2. I gialloneri di Di Luigi, in una giornata ricca di difficoltà, riescono ad arpionare il gol del pareggio solo nel recupero. Nel mezzo c'è tanto Villa Mattoni. I rosso-blu di casa pressano molto e mostrano grande ordine tattico al cospetto di una delle formazioni qualitativamente più quotate della categoria. La sfida è molto piacevole sul piano del ritmo. Il Montorio prova da subito a gestire ritmi e giocate, ma soffre le ripartenze avversarie. All'undicesimo Traini ruba palla e poi aziona nella corsa di Domenico. Il destro in corsa timbra la traversa. La risposta avversaria è al quattordicesimo. Nella ripartenza Faragalli ha la palla buona, ma Pompei si distende e devia in angolo. Il match continua ad essere molto equilibrato. Al trentasettesimo gli ospiti passano. Angolo di Capretta, nel mezzo di Silvestre ci prova due volte e trova il vantaggio. Prima del riposo la reazione dei locali trova il tentativo di Dippolito fuori di poco. L'inerzia della sfida muta radicalmente in avvio di ripresa, anche perché il New Club alza il baricentro. All'undicesimo arriva il gol del pareggio. Punizione dalla tre quarti. Il portiere avversario in ritardo in uscita e di Simplicio di testa mette dentro. Passano sette minuti e la matricola terribile opera addirittura il sorpasso. Angolo dalla sinistra, sponda di Traini e stoccata del capitano Tonino Bizzari per il gol del 2-1. Il Montori ha un sussulto e prova da subito a reagire al ventiduesimo con il tentativo fuori di Florimbi. Il Montori spinge, ma il Villa Mattoni si difende con grande attenzione. Il finale dei gialloneri ovviamente è arrembante. Al 39esimo ci prova il neoentrato di Donatantonio. Para però Pompei. E ancora Pompei attento al 43esimo a deviare il tirocross di Splendiani. Il Villa Mattoni punge al 47esimo alla palla del 3-1 con il neoentrato Luigi Bizzarri che arriva in leggero ritardo da un cross sulla destra. Sul rovesciamento di fronte però si concretizza il pareggio del Montorio con Pigliacelli che sfrutta un rimpallo e beffa Pompei con un pallonetto. Finisce 2-2 e alla fine è giusto anche così.